Memorie alcoliche di Jack London. Lettura di libri ganchi. La prima volta. La prima volta che mi ubriacai avevo cinque anni. In quella calda giornata mi mandarono alla fattoria, distante Mezzomiglio, in cui mio padre lavorava il nostro campo, a portargli un secchiello di birra. E sta attento a non versarla! Mi raccomandarono prima di partire. Era, per quanto mi ricordo, un boccale molto largo e senza coperchio. Mi allontanai a piccoli passi, ma la birra mi si rovesciava sulle gambe. Camminando, riflettevo. La birra era un genere molto prezioso. Pensandoci, doveva essere straordinariamente buona, altrimenti perché mi impedivano sempre di berne? I miei genitori mettevano lontano dalla mia portata molte cose che avevo trovato eccellenti. Anche la birra doveva esserlo. Ad ogni modo, il boccale era troppo pieno. Mi imbarazzava e gocciolava sulla polvere. Perché buttar via quel liquido? Nessuno avrebbe saputo se ne avessi bevuto rovesciato una parte. Ero così piccolo, che per bere dovetti sedermi a terra e mettermi il recipiente sulle ginocchia. La schiuma, che assaggiai per prima, mi disgustò. Il sapore prezioso della birra mi sfuggiva. Evidentemente, esso non richiedeva nella schiuma, il cui sapore era tutt'altro che buono. Allora mi ricordai di aver visto le persone grandi soffiare sulla schiuma prima di bere. Affondai il viso nel recipiente e aspirai il liquido che le mie labbra toccavano. Non era affatto buono, ma continuai a bere. I grandi sapevano quel che facevano. Continuai a bere, senza sapere quanto. Come se sorbissi una medicina, in fretta, per terminare questa prova. Quando mi rimesi in cammino, fui preso da brividi. Pensando che la bontà della birra mi si sarebbe rivelata in seguito, ripetei parecchie volte la prova, durante quel lungo mezzo miglio. Poi, allarmato nel vedere la quantità che mancava, mi ricordai come si faceva per spumeggiare di nuovo la birra riposata. Presi un bastone e agitai il resto fino a che la schiuma raggiunse l'orlo. Mio padre non si accorse di niente. Vuotò il boccale con la sete ardente del lavoratore, me lo restituì e riprese il suo posto dietro i cavalli. Io mi sforzai a camminare di fianco a questi. Mi ricordo che vacillavo e caddi fra le loro zampe, davanti all'aratro, correndo il pericolo di rimanere schiacciato. Mio padre tirò violentemente le redini. Mi disse poi che per poco non venne sventrato. Mi ricordo, pure vagamente, che mi trasporto in braccio verso gli alberi che si trovavano all'entrata del campo, che tutto girava intorno a me e che ero preso da orribili nausee alle quali si aggiungeva la costernazione per la colpa che sapevo di aver commesso. Passai il pomeriggio a dormire sotto gli alberi e quando mio padre mi svegliò al tramontare del sole, mi sentii come un bambino molto malato che si trascina penosamente fino a casa. Ero sfinito, oppresso dal peso delle mie membra e nel ventre sentivo una vibrazione simile a quella di un'arpa che mi saliva alla gola e al cervello. Il mio stato somigliava a quello di uno che si dibatte contro il veleno. In realtà ero veramente intossicato perché quella birra, come in genere tutta la birra americana, era molto alcolica. Durante le settimane e i mesi che seguirono ebbi per la birra lo stesso interesse che si può avere per il fornello quando si è rimasti scottati. Le persone grandi dicevano il vero. La birra è cattiva per i ragazzi. La bevevano senza repulsione, ma facevano così anche per le medicine e l'olio di ricino. Quanto a me, potevo continuare ad astenermene senza il minimo inconveniente. E certo, fino al giorno della mia morte, sarei riuscito a farne a meno. Se le circostanze non avessero disposto diversamente, se a ogni angolo del mondo in cui vivevo, John Balikon non mi avesse aspettato e chiamato senza che vi fosse mezzo di evitarlo. Mi occorse un'intimità di vent'anni durante i quali io gli resi gentilezze su gentilezze e non lo lasciai mai senza avere la lingua ardente, prima di sviluppare in me stesso un amore servile per il briccone.